Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e due saranno una carne sola. Io Riccardo accolgo a te Antonella come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Per questo l'uomo lascerà di Antonella. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.